Harry e William potrebbero riunirsi per l'inaugurazione di una statua della loro defunta mamma, la principessa Diana, quest'estate. Anche se si pensa che l'evento sia vicino alla data prevista per la gravidanza di Meghan Markle il principe Harry potrebbe essere sollevato che la data di scadenza della moglie incinta si avvicina all'inaugurazione della statua di Diana in quanto gli darebbe una scusa per non affrontare la sua famiglia, afferma un esperto reale. Harry non ha confermato se tornerà nel Regno Unito e starà accanto al principe William quando una statua della loro defunta madre, la principessa Diana, verrà rivelata a Kensington Palace il primo luglio. Il pezzo, commissionato dai fratelli in lotta, sarà rivelato nel Sunken Garden in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Diana. L'evento si svolgerà vicino alla data del parto di Meghan. Che è ancora un mistero. Anche se la duchessa americana ha detto a Oprah Winfrey che il secondo figlio della coppia, una femmina, è atteso durante l'estate. Ciò ha suscitato la speculazione che la data di scadenza dell'ex attrice di Suits sia alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Esperti reali e fan si sono chiesti se Harry vorrebbe lasciare Meghan e il figlio di due anni Archie da soli a Los Angeles se la nascita della bambina fosse imminente o se fosse nata pochi giorni prima dell'inaugurazione della statua. Il commentatore reale Kinsey Schofield ha detto che se ci fosse uno scontro tra la data di scadenza di Meghan e la data di inaugurazione della statua darebbe a Harry un motivo per evitare una riunione potenzialmente imbarazzante con la sua famiglia. La signora Schofield, con sede a Los Angeles, che gestisce il sito web di notizie reali 2D4Daily, ha dichiarato al Mirror. Immagino che il principe Harry sia sollevato dal fatto che la data di scadenza di Meghan sia così vicina all'evento perché è la scusa perfetta per il principe per siediti fuori e resta a casa negli Stati Uniti. Sospetto che il bambino nascerà intorno al momento dell'inaugurazione e che chiameranno la bambina Diana. Abbiamo appreso dal funerale del principe Filippo che c'era poca o nessuna riconciliazione tra i principi. Sarebbe catastroficamente ingiusto per il principe Harry tornare nel Regno Unito per l'inaugurazione della statua della principessa Diana e combattere a porte chiuse con il principe William per Meghan Markle. Questo evento deve riguardare la loro madre e deve onorare la loro madre. Sarebbe 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 Grazie a tutti.